Il Molise deve proteggersi dai cluster di rientro, lo dice il direttore generale dell'Aslem, Oreste florenzano possono allargarsi in maniera esponenziale, oltre 700 i molisani che si sono segnalati dal 14 agosto ad oggi 9, i nuovi positivi anzi hanno ricoverato in malattie infettive. Tamponi e reagenti, il Molise ne ha abbastanza per affrontare una nuova eventuale emergenza, l'Aslem chiede alla centrale unica di committenza una gara per acquistarli ma nel frattempo avvia procedura interna per garantirsi l'approvvigionamento. L'appartamento in fiamme a Venafro, tanta paura in via Colonia Giulia ma nessun ferito all'interno dell'immobile, non c'era nessuno, sul posto i vigili del fuoco e la polizia. Basso Molise senza acqua, Toma convoca i sindaci, lunedì la redderazione con la presenza dei vertici di Molise-Acqua. Ci sono i tratturi al centro della settimana verde itinerante organizzata dal CAI Molise, tanti gli escursionisti in cammino sul sentiero Celano-Foggia e Castel di Sangro-Lucea. Infine allo sport, il calcio, il DS del Campobasso conferma Sforzini, ci piace, è uno dei profili che stiamo valutando il centro avanti a Reduce da due campionati di D20 con Avellino e Palermo. L'Olimpia agnonese giocherà in interregionale, lo assicura il dirigente Antonio Melloni, il vasto Girardi si assicura le prestazioni del promettente 2005 Filippo Fraraggio. Buon pomeriggio, ben trovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di Campobasso, tante le notizie nel nostro telegiornale, lo avete sentito anche dai titoli, vi faremo vedere le immagini di un incendio in un appartamento a Venafro in via Colonia Giulia, parleremo della crisi idrica con il presidente della regione Donato Toma che convoca i sindaci del Basso Molise, ma in apertura c'è l'ampia pagina dedicata al coronavirus con il Molise che deve proteggersi dai cluster di rientro, lo ha detto il direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano, possono allargarsi in maniera esponenziale, sono oltre 700 i molisani che dal 14 di agosto si sono segnalati con una mail all'Asrem, ma c'è anche un altro fronte, quello dei tamponi e dei reagenti, ebbene il Molise è pronto ad affrontare un'altra nuova eventuale emergenza, i particolari del servizio. Dal 14 agosto oltre 700 persone si sono segnalate all'Asrem, la metà dei molisani che hanno inviato una mail all'azienda sanitaria regionale è rientrata da Malta, Grecia, Croazia e Spagna, le nazioni oggetto dell'ordinanza del presidente Donato Toma, l'altro 50% riguarda invece i vacanzieri che hanno scelto meta italiana e anche la Sardegna, sono dunque i cluster di rientro il vero problema che il Molise e le altre regioni devono gestire, come sentite il DG Asrem Oreste Florenzano. I cluster di rientro sono un focus importante che in questo momento ci vede molto impegnati perché è da lì che dobbiamo difenderci da queste situazioni che come abbiamo visto possono poi allargarsi in maniera esponenziale, quindi dobbiamo essere molto attenti nel prevenire questo tipo di situazioni o nell'individuarle subito. Inevitabile intensificare i controlli, inevitabile l'aumento del numero dei tamponi, il Molise abbastanza tamponi e reagenti per affrontare un'eventuale nuova emergenza ancora florenzano. Asrem ha chiesto alla centrale unica di committenza una gara che venga espletata una gara più grande, ma nel frattempo abbiamo fatto una nostra procedura per garantirci gli approvvigionamenti. Si tratta di una materia molto complicata perché c'è una vera e propria guerra anche a livello nazionale, oltre che internazionale, quindi siamo molto attenti anche su questa situazione. Come saprete sono nove i nuovi positivi al coronavirus, c'è anche un'altra persona ricoverata nel reparto di malattie infettive delle Cardarelli, si tratta di persone di Campobasso, Ripalimosani, Ferrazzano, Isernia, Macchiagodena, Montaquila e Fornelli, tutte rientrate o da fuori Italia o da fuori regione. Processati nelle ultime ore 342 tamponi. I sindaci raccomandano accortezza ai cittadini, indossate la mascherina e rispettate le norme. Valentina Ciarlante. Esplodono nuovi piccoli focolai e torna la paura del contagio in Molise. Dagli ultimi 342 tamponi processati dall'Asrem sono risultate positive a otto persone e una di loro si trova in malattie infettive. Gli altri contagiati sono uno di Campobasso, rientrato dalla Croazia, uno di Ripalimosani, anche lui tornato probabilmente da una vacanza in Croazia, uno di Ferrazzano, riferimento del cluster Grecia scoppiato nei giorni scorsi, due di Isernia, una madre e una figlia arrivate da Pavia, una di Macchiagodena, donna rientrata da Anzio e un'altra signora tornata dallo stesso comune laziale di Montaquila. Ma risulta positiva anche una persona di Fornelli che ha effettuato il tampone in Abruzzo. Si tratta di un'anziana che, come tutti gli asintomatici, è in isolamento domiciliare. Lo ha comunicato il sindaco Gianni Tedeschi, il quale, così come il collega di Montaquila, Marciano Ricci, ha raccomandato a tutti massima cautela, quindi, di indossare la mascherina e rispettare le norme anti-Covid. I positivi attuali, quindi, in Molise salgono a 64, 61 sono asintomatici, tre si trovano al Cardarelli, in quarantena risultano 117 persone. E' uno dei casi delle ultime ore, come detto, nel servizio è stato accertato a Montaquila. Si tratta di una ragazza rientrata da Lazio dove ha trascorso le vacanze. L'Aserem ha subito avviato l'indagine epidemiologica e sta ricostruendo la mappa dei contagi. Stamattina già diverse persone sono state sottoposte a tampone e, in caso di nuovi contagi, lo screening sarà ulteriormente ampliato. Il sindaco di Montaquila, Marciano Ricci, che è in stretto contatto con i vertici dell'azienda sanitaria e con il governatore Toma, sta seguendo l'evoluzione dei fatti. Questa mattina ha firmato un'ordinanza con cui ha disposto la chiusura della villetta comunale e la sospensione dell'utilizzo dei giochi ubicati a Montaquila. Masseria della Corte è a Roccaravindola fino a nuova disposizione. Ricci e tutta l'amministrazione hanno espresso vicinanza alla persona risultata positiva e alla sua famiglia, esortando tuttavia la cittadinanza a rispettare le regole in vigore per il contenimento della pandemia, avendo particolare riguardo al distanziamento sociale, all'uso della mascherina che, ricorda il sindaco, è obbligatoria dalle 18 alle 6 negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, negli spazi pubblici e in tutti quegli spazi dove risulta più agevole il formarsi di assembramenti. Ricci invita infine a mantenere la calma e a tenere alto il senso di responsabilità ricordando ancora una volta che il virus non è sparito e che è ancora alto il rischio epidemiologico. Il sindaco ha inteso rivolgere infine un particolare ringraziamento al presidente Toma e ai direttori generali e sanitario dell'ASREM, Florenzano e Scafarto, per la disponibilità e la sensibilità dimostrate, la celerità con cui hanno avviato la procedura necessaria per circoscrivere i contagi. Ed ora il sindaco di Oratino, Roberto De Socio, che smentisce un presunto caso di coronavirus a Oratino come letto su vari siti giornalistici online. e dunque nessun caso, nessuna positività nel comune di Oratino, l'assicura il sindaco Roberto Ricci che vedete in queste immagini. Ora la cronaca, andiamo a Venafro, appartamento in fiamme, questa mattina intorno alle 12, state vedendo le immagini, per fortuna non si registra nessun ferito, l'immobile ovviamente come potrete immaginare è completamente distrutto, un immobile di proprietà di una persona di Venafro ma in fitto di una famiglia di Napoli che per fortuna non era nell'appartamento e lo frequentava solo saltuariamente. Sul posto i vigili del fuoco di Isernia e la polizia stradale per gli accertamenti del caso. L'incendio, dopo alcune ore di intenso lavoro, è stato domato dai vigili del fuoco. Andiamo a Termoli, fermato dopo una strenua caccia all'uomo, ne abbiamo parlato anche ieri sera nel Tg delle 19.30, compreso il sorvolo di un elicottero, ma subito rilasciato dai agenti del commissariato di polizia. È ancora tutto da chiarire, la vicenda del furto di un furgone della SDA avvenuto sulla costa. Dopo essere stato rintracciato e bloccato dalla polizia, un giovane di 28 anni di Sansevero è stato rilasciato. Questa foto intanto si riferisce proprio al momento dell'inseguimento. Dicevo è stato rilasciato dalla polizia, riscontri e ulteriori verifiche non hanno evidenziato gli elementi e dopo il foglio di via obbligatorio potrebbe scattare solo la denuncia. Gli elementi ovviamente per gli arresti potrebbe dunque scattare solo la denuncia. I carabinieri della stazione di Santa Croce di Maiano, in esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Larino, hanno sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e di vieto di farvi ritorno e di avvicinamento alla parte offesa e dai luoghi abitualmente dalla stessa frequentati per un 75enne del luogo di Santa Croce indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia. Le indagini scaturite dalla denuncia fatta dalla vittima delle violenze hanno permesso di raccogliere sufficienti e gravi indizi sul conto dell'uomo da indurre il pubblico ministero a chiedere una idonea misura e al GIP del Tribunale di Larino di emettere il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare appunto a carico del 75enne di Santa Croce di Maiano. Parliamo del Basso Molise, alle prese con la carenza di acqua, tanti comuni alle prese con l'emergenza idrica. I sindaci sono stati convocati dal presidente della regione Donato Toma. L'appuntamento è per lunedì 31 agosto alla presenza anche dei vertici di Molise Acqua. Ci riferisce tutto Andrea Vertolo nel suo servizio. L'emergenza idrica in Basso Molise al centro dell'incontro che si terrà lunedì 31 agosto nella sede della regione a Palazzo Vitale. Il tavolo di lavoro richiesto dai sindaci delle zone più colpite da carenza di acqua vedrà la presenza del presidente della regione Donato Toma e dei vertici di Molise Acque. I comuni convocati sono in ordine Acqua Viva con le Croce, Castelmauro, Guglionesi, Monte Cilfone, Palata, Tavenna, San Giacomo degli Schiavoni, Petacciato e Montenero di Bisaccia. Tante le criticità da affrontare dagli interventi sulla rete idrica risultata da tempo obsoleta alle criticità presenti nell'acquedotto molisano centrale. Nei comuni elencati continuano le chiusure notturne e la protezione civile è impiegata ormai da giorni nel fornire acqua potabile ai residenti attraverso autobotti. Situazioni insostenibili che si ripetono costantemente ogni anno e che trovano sdegno nei primi cittadini della zona che richiedono ad alta voce il diritto all'approvvigionamento di acqua per tutto l'anno. D'altro canto Molise Acque lamenta la scarsa disponibilità del bacino del Liscione, insomma poca acqua e troppa difficoltà nel garantirla su tutto il territorio. Lunedì quindi un primo ma importante confronto al quale i sindaci sperano che seguiranno immediatamente degli interventi non per temporanea l'emergenza ma per risolverla una volta e per tutte un'altra estate così, dicono, non sarà più tollerabile. Restiamo sul tema perché il Comune di Guionesi informa che a causa della crisi idrica in corso l'orario di apertura e di chiusura a giorni alterni del flusso idrico nelle contrade di Guionesi non è più dalle 14 alle 14 del giorno successivo ma dalle 7 alle 7 del giorno appunto successivo. E ora parliamo della scuola perché dal primo settembre ci sarà un nuovo preside all'istituto comprensivo San Giovanni Bosco di Isernia. Mariella Di Sanza andrà in pensione e arriverà il sostituto per un anno. Malcontento tra docenti e genitori Valentina Ciorlanti. Cambio al vertice dell'istituto comprensivo San Giovanni Bosco di Isernia, scuola storica e tra le più popolose dell'intera provincia Pentra. Dal primo settembre ci sarà un nuovo preside il quale gestirà il plesso per un anno. La decisione è stata assunta dall'ufficio scolastico stante il collocamento in pensione di Mariella Di Sanza, una vera e propria istituzione del mondo della scuola che il prossimo 31 agosto concluderà l'anno in più che le aveva accordato proprio l'OSR. La notizia, visto il momento delicato che sta vivendo la scuola e con i tanti interrogativi che attorniano la riapertura, considerando che l'emergenza sanitaria è ancora in corso, ha colto di sorpresa i docenti che attendevano una nomina definitiva. Alcuni di loro e alcune famiglie in queste ore si stanno facendo portavoce della richiesta della permanenza della preside di Sanza, almeno per un periodo di sei mesi. La dirigente Sabatini, dal canto suo, ha voluto rassicurare tutti e pur comprendendo il dispiacere per l'addio di una preside che ha costruito la San Giovanni Bosco, ha sottolineato che quell'istituto non verrà assolutamente abbandonato. Non ci sarà nemmeno un giorno di vacazio, ha spiegato. Dal primo settembre ci sarà una nuova guida e la riapertura sarà in piena sicurezza. Inoltre la dottoressa Sabatini ha spiegato che quella esernina è stata l'unica scuola della regione per cui l'USR ha nominato due tecnici propri, incaricandoli di gestire tutta la fase di raccordo col comune Pentro, proprietario dell'edificio di San Leucio, una fase necessaria a garantire la riapertura secondo le norme anti-covid dal 14 settembre. Un segno di attenzione che vuole spazzare via le polemiche, intanto l'insegnante Lina Fantini ha voluto spiegare i motivi del malcontento e avanzare un'istanza precisa. Davvero tutti quanti noi, tutti quanti i miei colleghi, le mie colleghe, abbiamo sperato fino all'ultimo che la burocrazia agisse in modo diverso e che quindi visse in deroga la dirigenza alla distanza nonostante fosse andata in pensione, stia andando in pensione. Questo non è avvenuto e ci dispiace molto perché, come ripeto, in questa grave condizione organizzativa la nostra dirigente nonostante tutto sta lavorando giorno e notte per rimodulare un ingresso scolastico che potesse alleggerire un po' le preoccupazioni legittime di tutte quante le famiglie. Quindi io mi auguro che questo nostro appello, del quale io mi faccio portavoce ma a nome di tutti i colleghi, possa trovare l'ascolto da parte di chi può intervenire per risolvere la situazione in modo diverso. Restiamo sull'argomento, l'argomento scuola sulla ripartenza in sicurezza. Questa mattina il governatore Tom ha avuto un incontro video ovviamente con i ministri Boccia, Azzolina e Speranza. C'era anche il commissario Arcuri ma ve ne parleremo dettagliatamente nel Tg delle 19.30. Intanto il sindaco di Torella del Sagno scrive al ministro Azzolina, al presidente della regione Donato Toma e al presidente dell'USR Molise Anna Paola Sabatini. Antonio Lombardi in una nota dove fa riferimento alla ripartenza della scuola il 14 settembre dice che ha sempre garantito ed assicurato il trasporto di oltre 200 scolari iscritti presso la scuola tramite l'uso di tre appositi scuola bus ma alla vigilia del prossimo anno scolastico ci sono numerose criticità che devono essere affrontate e appunto scrive al ministro Azzolina, al presidente della regione e al direttore dell'USR Sabatini per avere certezze, per avere aiuto a risolvere tali problematiche. Ora parliamo delle amministrative del 2020 perché Facciolla, il segretario regionale del Partito Democratico, dice PD e Movimento 5 Stelle, fronte comune contro i sovranismi. Ci avviciniamo a grandi passi alla nuova tornata elettorale del 21 settembre, le sue parole che chiamerà le urne i cittadini di 20 paesi molisani per la scelta dei nuovi sindaci. Un appuntamento importante come tutti quelli legati alla democrazia del nostro paese, il Partito Democratico in seguito ad un periodo di valutazione ed un lungo lavoro di relazioni sul territorio ha composto le liste dei candidati nell'ottica di una nuova apertura verso tutti coloro che condividono le linee programmatiche e di valori del partito. Questo ha portato in alcuni comuni alla convergenza con il Movimento 5 Stelle che per la prima volta affianca il PD e con questo ha deciso di fare squadra. Siamo consapevoli che si sta aprendo una nuova era politica, ha affermato il segretario del PD, un'era fatta di contenuti e concretezza. Dopo gli anni caratterizzati dall'odio, vuoto e fine a se stesso, utilizzato da alcune forze politiche come strumento di aggregazione e come slogan a chiappa voti, finalmente sembra ci siano i presupposti per una nuova politica fatta di proposte, di programmi e di persone che intendono mettersi a disposizione delle loro comunità. A proposito di elezioni, sono stati nominati gli scrutatori per le prossime consultazioni elettorali. Questa mattina presso la sala consigliare del Comune di Campobasso si è riunita la Commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori da assegnare ai seggi della città di Campobasso in occasione delle prossime consultazioni elettorali. L'estrazione è stata effettuata tra gli iscritti all'albo degli scrutatori, non alle liste elettorali. Grazie all'intesa tra i consiglieri di maggioranza e opposizione si è deciso di adottare un criterio diverso da quello che veniva adottato in passato, quando gli scrutatori venivano indicati dagli stessi consiglieri comunali. All'inizio della seduta è stato infatti mostrato un video esplicativo del funzionamento della procedura per la selezione degli scrutatori delle cosiddette riserve che utilizza una modalità del tutto casuale stabilita attraverso un programma e un algoritmo di estrazione fornito dalla piattaforma gestionale ufficiale dell'ente. Abbiamo deciso di superare il metodo che prevedeva in passato che ciascun consigliere comunale potesse incaricare fino a quattro scrutatori, ha dichiarato il sindaco Gravina a inizio seduta e crediamo che questa inversione di rotta nelle metodologie di scelta sia un'operazione di totale trasparenza condivisa con lungimiranza da maggioranza e opposizione. Ci sono i tratturi al centro della settimana verde itinerante organizzata dal CAI Molise, tanti gli escursionisti in cammino nel sentiero Celano-Foggia e Castel di Sangro-Lucera. Sentite Andrea Verto. Immergersi nella natura incontaminata del Molise percorrendo passo dopo passo gli storici tratturi del Celano-Foggia e Castel di Sangro-Lucera. Un'esperienza unica organizzata dal CAI e che sta vedendo una partecipazione sempre più numerosa di turisti, sportivi e amanti del trekking. Ogni giorno un percorso che può variare dai 10 ai 15 chilometri, poi la sosta nei borghi storici come Pietra Abbondante, Carovilli, Bagnoli del Trigno, Civitanova del Sannio. Un'attività organizzata in massima sicurezza al fianco di esperti del territorio e nostri microfoni il presidente del CAI Molise, Davide Sabato. L'esperienza è stata finora divertente come sempre, quanto si va in giro tra amici e ci si diverte guardando il territorio, gustando il territorio. È stata volutamente voler riscoprire dei percorsi interni legati al tratturo, alla transumanza, a questa esperienza straordinaria antropologica e che noi abbiamo ricostruito disegnando un anello tra Celano-Foggia e il Castel di Sangro-Lucera sfruttando i tratturelli, quello di Sprondasi da una parte e quello di San Domenico a Carovilli dall'altra. Attraverso questi tratturelli noi passiamo dall'uno all'altro e siamo riusciti a creare un circuito, evitando quindi anche la necessità di dover ricorrere a dei mezzi pubblici per il trasporto e il recupero delle macchine e dei mezzi. Nell'organizzazione preziosa è stata la collaborazione dell'associazione Molise On The Road che da anni percorre i sentieri della regione, in lungo e in largo, come spiega il presidente Pasquale Italiano. Oggi abbiamo percorso circa 15 chilometri da Salcito fino a Bagnoli e sta andando molto bene, le persone rispondono, non ci sono particolari difficoltà. Abbiamo attraversato, lo vediamo nel paesaggio, una parte del tratturo che oggi non è più evidente, ovviamente per poter ripristinare il tratto abbiamo dovuto lavorare per rintracciare proprio il vecchio percorso. Qui siamo sul Celano Foggia che in realtà termina a Sprondasino o meglio continua da Sprondasino verso Pietrabbondante. Noi abbiamo fatto quest'altro tratturello per arrivare a Bagnoli e oggi il gruppo dei volontari bagnolesi ci accompagnerà nella visita del paese. Credo la prima cosa che faremo è la visita alla chiesa di San Silvestro. Un'esperienza bellissima, dei paesaggi incantevoli, una natura incontaminata e un effetto di pace, di serenità. Io invito tutti gli abitanti di queste zone a investire in attività e in turismo di qualità perché questo è un futuro, è il futuro economico. Il programma dei percorsi proseguirà fino a sabato 29 agosto quando da Torella del Sannio si giungerà a Pietracupa all'ombra della Morgia dei Briganti. Per partecipare basta andare sul sito caicampobasso.it per vivere un'esperienza indimenticabile tra i paesaggi più suggestivi del Molise. Bene, ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per giovedì 27 agosto L'anticiclone rinnova condizioni di stabilità e bel tempo al sud Italia determinando una giornata pienamente estiva e improntata a ceri sereni o poco nuvolosi venti deboli ma rimossi. Queste le temperature nelle maggiori centri della regione Campobasso minima 18, massima 33 gradi Sernia minima 17, massima 31 gradi Termoli temperature comprese tra i 24 e i 28 gradi Vena afro minima 17, massima 30 gradi È tutto con l'informazione Informazione che torna questa sera alle 19.30 in diretta con la collega Valentina Cirlante Ora linea alla regia Tra pochissimo c'è la pagina sportiva con il DS del Campobasso di Angeles che conferma la nostra anticipazione Ai lupi piace l'attaccante Sforzini Parleremo anche di Olimpia Nionese e di Vasso Girardi ma infine di Basket di Magnolia A tra pochissimo Lo sport, il calcio, Campobasso su Sforzini Il DS De Angelis conferma la notizia data in anteprima da Teleregione Lex Avellino e Palermo ci interessa Stiamo valutando, sentite tutti i particolari del servizio Trattativa confermata Il Campobasso segue Ferdinando Sforzini Ci interessa, è uno dei profili che stiamo valutando Le parole del DS Stefano De Angelis che dunque conferma l'anticipazione di Teleregione Classe 1984, 36 anni a dicembre Due campionati di serie di vinti di fila Due anni fa da Avellino, pochi mesi fa a Palermo Il curriculum del centro avanti è pesantissimo Verona, Modena, Vicenza, Bari, Grosseto In B con tanti gol Pescara in serie A e ancora Latina, Virtus Entella, Pavia, Viterbese Infine, i successi in serie di con Avellino e Palermo Esperto, non certo giovanissimo Ma ancora integro fisicamente Potrebbe giocare titolare o essere utile a gara in corso E sì, perché Cudini ha bisogno di poter cambiare Il suo canovaccio per evitare di essere prevedibile Non sarà sempre possibile attaccare lo spazio E sfruttare la profondità garantita da Esposito E soprattutto da Cogliati Servirà anche giocare qualche pallone lungo E sfruttare la fisicità di un vero centro avanti E in questo Sforzini ha pochi rivali Il ritiro a Palena con il gruppo C'è anche l'ex Isernia Angelo Capuozzo Classe 2001 di grande prospettiva La dirigenza cerca anche un 2002 di grande spessore Il cruccio di un po' tutte le società che vogliono vincere E ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie D Ci sarà anche l'Olimpia Agnonese Lo assicura Antonio Melloni Uno dei dirigenti storici del club Il progetto sarà Giovani Parteciperemo al campionato di Serie D I tifosi dell'Olimpia Agnonese possono tirare un sospiro di sollievo Ma con i nostri tempi perché vogliamo vederci chiaro Spiega Antonio Melloni Uno dei dirigenti storici del club Nelle scorse ore la società si è riunita C'era anche il presidente di missionario Marco Colaizzo Che con molta probabilità verrà nominato presidente onorario La carica più importante, quella di presidente ovviamente Finirà invece proprio ad Antonio Melloni Che nei momenti di difficoltà c'è sempre stato Colaizzo garantirà un importante sostegno economico Sarà il main sponsor del club Ma non potrà assicurare lo stesso impegno delle scorse stagioni Stiamo lavorando a fari spenti Spiega Melloni Siamo in contatto con allenatori e giocatori Ma per il momento preferiamo temporeggiare Perché vogliamo maggiori rassicurazioni sul protocollo anti-covid È una cosa seria Non possiamo prenderla sotto gamba Non vorremmo diventare gli untori dell'Alto Molise Per questo siamo in attesa che il tutto sia più chiaro e lineare Ci sono responsabilità ben precise Che non possono essere prese con leggerezza Sappiamo di essere in ritardo rispetto agli altri Ma siamo convinti di avere ancora margine Per poter intervenire Ripeto, stiamo lavorando Ma prima di partire vogliamo avere maggiori certezze Il progetto sarà quello annunciato da Teleregione Nei giorni scorsi Un tecnico giovane, conclude e conferma Melloni E una squadra con un'età media molto bassa Con tanti ragazzi in rosa L'Agnonese ripartirà da questo genere di figure Non aspettatevi, dice, nomi altisonanti Ma ragazzi determinati Con tanta voglia di lottare Per provare a centrare la salvezza Dunque non resta che attendere E sperare che il miracolo si avveri Anche questa volta Parliamo del Vasto Girardi Che si assicura uno dei migliori prospetti Del calcio regionale Parliamo di Filippo Fraraccio Classe 2005 Già aggregato al gruppo della prima squadra Che lavora a Campitello Matese Fraraccio era stato richiesto anche da Campobasso E Benevento Ed è cresciuto nel settore giovanile Della scuola calcio San Leucio Ed ora il basket femminile Di serie basket femminile Di serie A1 La Magnolia Campobasso È iniziato a fare sul serio Seconda settimana di lavoro Per le Campobassane Ne abbiamo parlato con Marangoni E Bonasia Sentite Entusiasmo, determinazione E tanta voglia di fare La seconda settimana di preparazione In casa la Molisana Magnolia Campobasso A ritmi ben scanditi Col gruppo che prosegue Nel suo costante percorso di avvicinamento Al campionato di serie A1 Un ritorno sul parquet Che rende felici Le giocatrici in primis A sottolinearlo L'esterna veronese Al terzo anno in rosso-blu Sofia Marangoni Con tanta allegria Tanto entusiasmo Tanta gioia Tanta curiosità Tanta energia Sono insomma Tante emozioni Sensazioni belle Perché dopo cinque mesi Insomma Sono tanti Per un atleta Non poter praticare il proprio sport Ok Che ci siamo allenate tutte A casa nostra Però Ritrovare anche L'atmosfera di squadra Il palazzetto Abbiamo corso un pochino È stato proprio bello Anche tante volte correre È la cosa più brutta È iniziare a riprendere A fare la preparazione Atletica Invece è stato È stato proprio bello Una gran voglia di fare C'è anche nelle New Entry Tra i fiori d'acciaio Valentina Bonasia Sottolinea Con fierezza L'aspetto Della cura dei dettagli Tantissime sensazioni positive Soprattutto perché Livello Sicurezza Visite mediche Abbiamo fatto anche il serologico Sono molto contenta perché Significa che siamo molto attenti Quindi diciamo che Nella prima settimana Ci siamo focalizzati Più su queste cose Adesso piano piano Siamo con la vera e propria Preparazione E aspettiamo appunto Che arrivino le ultime ragazze Però le sensazioni Sono sicuramente positive Bene E' tutto anche con La pagina Sportiva Grazie per aver scelto La nostra informazione Arrivederci